Buonasera a tutti! Ben ritrovati! Come va? Come state? Come? Allora, il 5 ottobre del 2008 è iniziata la nostra storia e a distanza di dieci anni non potevo assolutamente immaginare che ci saremmo ritrovati qui, che saremmo inciampati l'uno dentro l'anima dell'altro, quindi insomma è iniziata così la nostra storia. Mi taglia nel petto e poi va dritto il cuore, affondano in lacrime i miei pensieri. E' forte il bisogno che ho di amare te. L'amore che io ti darò, fa volare, più in alto del manto di l'amore che copre il sole. E ti raggiungerò e sarò nel vento che fa incontrare ogni mattino del tuo e del mio sentimento. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà preziosi desideri che stretti ammetterò, poi ti racconterò. Così per sempre sei il fuoco che mi fa bruciare, sei la mente che accende per me ogni colore. L'amore che io ti darò, fa vibrare, i nostri due corpi hanno il mio unico cuore. E ti raggiungerò e sarò nel vento che fa incontrare ogni attimo del tuo e del mio sentimento. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà preziosi desideri che stretti ammetterò. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà preziosi desideri che stretti ammetterò. Le ombre che si toccano, la luce le dipingerà preziosi desideri che stretti ammetterò. Sentire dolce le dipingerà preziosi desideri che stretti ammetterò. Uomini, 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 uomini. Grazie!